E' in corso di svolgimento l'ultima parte dei lavori in via Petrarca che dovrebbero concludersi venerdì, con il termine del progetto di riqualificazione e la nuova asfaltatura. Obiettivo prioritario, aveva detto il vicesindaco Gamorrigi, è quello di concludere al meglio il rifacimento di un'arteria strategica per il centro città, ecco allora che per ridurre i tempi e garantire una migliore qualità del lavoro, soprattutto i quattro attraversamenti pedonali rialzati, gli uffici tecnici e il sottoscritto hanno ritenuto indispensabile procedere con la chiusura totale della strada per soli cinque giorni. Le attività presenti ai residenti possono effettuare operazioni di carico e scarico tra le 9 e le 17, via Marconi resta chiusa, gli automobilisti possono sfruttare via Cenne della chitarra grazie all'oscuramento del barco ZTL presente. Per uscire dal parcheggio Cadorna il 5 e il 6 di luglio si potrà uscire in sinistra su via Petrarca. Ancora qualche giorno di pazienza e poi via Petrarca sarà dunque restituita totalmente nuova agli aritini.